Il saluto è avvenuto nella sala Giordano di Palazzo Medici Riccardi. Tante facce nuove frutto dei risultati delle ultime elezioni amministrative che hanno visto eleggere 22 nuovi primi cittadini, tra cui la stessa neosindaca di Firenze. Per la città metropolitana è dunque il momento di guardare al futuro. Toccherà adesso alla neosindaca Sara Funaro, guidare l'ente, il nuovo consiglio metropolitano che verrà eletto a settembre e la conferenza metropolitana, composta da tutti i primi cittadini dei comuni compresi nel territorio metropolitano e anch'essa interessata da un notevole rinnovamento. Sono infatti 35 su 41 totali i comuni che sono andati al voto nel corso delle ultime elezioni amministrative e ben 22 i sindaci neoeletti, capoluogo compreso. Proprio per questo la sindaca Funaro ha incontrato per un primo saluto i sindaci e le sindache dei vari comuni, in vista del nuovo percorso che l'ente dovrà intraprendere nei prossimi 5 anni nella prospettiva di un lavoro comune. Proprio per il primo saluto. Proprio per il primo saluto. Proprio per il primo saluto.